Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Signore e signori buonasera e grazie come sempre per aver scelto l'informazione di Telefriuli e l'augurio di una buona settimana. Lo avete sentito dai titoli. Grazie a tutti. Al processo era presente anche la regione stimolante dalle quasi 17 mila firme raccolte. Sono queste le decisioni odierne delle GUB del Tribunale di Udine e Maria Rosa Persico che ha presieduto la prima udienza preliminare. Se ne riparla il 3 luglio quando inizierà la discussione potrebbe arrivare molto presto la sentenza. L'avvocato della famiglia Orlando Fabio Gasparini. È stata ammessa la costituzione di parte civile da parte del Comune di Vignano e dell'Associazione Voce Donna. È stato invece ammessa per la regione l'intervento da parte della regione col consenso da parte dei familiari di Nadia che hanno quindi prestando il consenso. È stato ammesso l'intervento da parte della regione e l'udienza è stata rinviata giornata al 3 luglio per la discussione e qualora non si esaurisse il 3 luglio all'11 luglio. Quindi se non è il 3 luglio, l'11 luglio verrà terminata la discussione perché i difensori dell'imputato hanno richiesto il rito abbreviato. Quindi si terrà il rito abbreviato con discussione il 3 luglio in alternativa all'11 luglio per la prosecuzione. Tra un mese avremo una sentenza salvo colpi di scena. In mattinata alcuni compaesani e amici di Nadia si erano radunati davanti al tribunale con molti cartelli che ospitavano slogan come Il tuo sorriso brilla tra le lacrime, splende all'infinito. Una presenza per mantenere alta l'attenzione sulla sete di giustizia. Un gruppo che il prossimo 31 luglio, giorno del primo anniversario della morte di Nadia, si ritroverà per una fiaccolata a Muzzana e alle 22 ora della morte di Nadia verranno spente tutte le candele. Ci manca sempre più Andrea Orlando, padre di Nadia, ha parlato ai nostri microfoni distrutto dal dolore ma trattenendo qualsiasi tipo di commento sull'omicida. Ma è riuscito a pronunciare più volte grazie a coloro che da quel 31 luglio non hanno mai lasciato sola la sua famiglia. Siamo contenti della solidarietà che ci è stata portata nuovamente dalla regione, dal comune e dalle associazioni, in questo caso l'associazione di Pordenone per la violenza sulle donne. La regione è stata messa come parte civile e l'abbiamo voluto noi per ringraziare nuovamente tutte le persone che ci hanno accompagnato in questo duro periodo con le loro firme, hanno partecipato al nostro dolore anche indirettamente, però si sono state molto vicine e continuano ad esserlo. Signor Andrea, della rabbia per gli arresti domiciliari, cosa resta ancora o è passata? Non c'è niente da dire in quel senso, c'è da dire che Nadia manca ogni giorno e ogni giorno di più. Avreste voluto vederlo oggi? Non apro bocca in merito, fate voi. Da quella busta che gli aveva inviato, prima o poi la aprirà o vuole restituirla? Potrebbe servire per il processo, eventualmente. Lei ha parlato di severità, non la molano un giorno, la gente di Dignano non solo è sempre vicina. Non solo la gente di Dignano, abbiamo trovato, abbiamo conosciuto tante persone care che sono sempre a noi vicine nei momenti di bisogno e ieri sera ci hanno lasciato, non dico a mezzanotte, ma quasi, perché sapevano della giornata a cui andavamo incontro. Questo processo è un po' un calvario, no? Riapre una ferita tutti i giorni. Sono ferite ogni giorno, sono ferite ogni giorno. Minacciava i passanti con un coltello da cucina, seminando il panico nel centro di Pordenone, per questo un 19enne friulano sotto gli effetti dell'alcol, è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale, minaccia aggravata, porto abusivo d'armi e manifesta ubriachezza. Era appena uscito di casa nella centralissima zona di Cavana a Trieste, ma visti gli agenti, un operario 26enne di origine ucraina ha cambiato strada con circospezione. I poliziotti l'hanno fermato, trovandolo in possesso di 10 grammi di cocaina e una bustina di ecstasy. La prequisizione ha permesso di scoprire all'interno del suo appartamento circa 135 grammi di cocaina, quattro buste contenenti complessivamente circa 320 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e oltre a una pistola a tamburo, una pistola semi-automatica. Per tutta la giornata di domani sulla nostra regione è prevista una marcata instabilità che potrà portare temporali anche forti. Per questo l'opposizione civile regionale ha diramato un'allerta meteo che interessa tutte le aree della regione. Le precipitazioni potrebbero comportare locali situazioni di crisi della rete idrografica minore di drenaggio urbano, fenomeni di instabilità dei pendii, interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili colpi di vento. Il Comune di San Vito al tagliamento promuove un'instanza per la riapertura dell'indagine sulla scomparsa di Rossella Corazzin, giovane sanvitese, di cui non siano più transi dall'estate 75, e che secondo la testimonianza di Angelo Izzo sarebbe stata rapita, sequestrata e uccisa proprio dai mostri del Circeo. I sottoscritti cittadini, si legge nel testo, profondamente colpiti dalle recenti notizie, ricordano i drammatici fatti dell'agosto 75, quando Rossella Corazzin, giovane studentessa di San Vito, scomparve a tai di Cadore. Scossi e turbati dal mistero che avvolse quella scomparsa, rimasta senza spiegazione per oltre 40 anni, rivolgono rispettosa istanza affinché si possa dare corso alla riapertura delle indagini. I cittadini possono sottoscrivere la petizione recandosi all'ufficio protocollo del Comune di San Vito. Un ritorno agli enti intermedi, votiamo pagina, eletti dai cittadini. Quanto prospettato dall'assessore regionale Roberti, che questa mattina ha partecipato alla prima seduta del Consiglio delle Autonomie Locali. Confermate le misure già annunciate sulle UTI. Il superamento delle UTI c'è già di fatto, nel senso che le UTI non sono mai partite, sono partite soltanto sulla carta, quindi mi rendo perfettamente conto e ci rendiamo tutti perfettamente conto che qualcosa va fatto, la norma va cambiata, ma dando gli strumenti adeguati. Se con lo strumento delle UTI molti sindaci hanno deciso di non aderire oppure di uscire da quelle unioni, evidentemente lo strumento non ha funzionato. Non ritorneremo sicuramente alle province, ma ci sarà bisogno di un ente territoriale che stabiliremo e valuteremo anche come dimensioni e come competenza territoriale con i territori, quindi con i sindaci stessi. C'è bisogno di un ente intermedio che faccia programmazione, ma dovrà avere dei paletti ben precisi, rispettare delle identità anche culturali dei territori e delle popolazioni che ci vivono e soprattutto anche essere elettivo, perché soltanto con un ente elettivo c'è la garanzia che chi si occupa di quell'area vasta si occupa di tutto il territorio e non soltanto del proprio comune, come avviene adesso. Un'idea potrebbe essere quella di partire intanto per quanto riguarda le politiche sociali, la gestione delle sole politiche sociali a un ritorno agli ambiti territoriali, quindi stiamo parlando sempre di 18, mentre per tutto il resto, per tutto quello che riguarda la pianificazione territoriale, certamente ce ne saranno molte, ma molte di meno, ma adesso non so direvi quante, se saranno 4, 5, 6, 7, 8, lo decideranno i territori. Non c'è nessuna deadline, ci vogliamo prendere tutto il tempo necessario per non ricadere negli errori del passato, ovvero quello di imporre ai sindaci qualcosa che non andava bene. Noi non vogliamo imporre assolutamente nulla. Corre la cronaca, si sono introdotti all'interno di un'abitazione nella zona di Viale Venezia, Udina, casa di un 52enne, attirando l'attenzione di uno dei residenti che ha chiamato i carabinieri. I militari, una volta giunti sul posto, hanno individuato e bloccato due cittadini georgiani che attraverso le frazioni di una porta finestra erano riusciti a entrare nell'appartamento. I due sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto, saranno processati con rito direttissimo. Il comitato Cavarzerani ha incontrato questa mattina il sindaco di Udina Pietro Fontanini. Al centro dell'attenzione è la situazione della sicurezza e del decoro attorno all'ex area militare. Il primo cittadino ha assicurato il taglio dell'erba sull'intero perimetro della struttura, l'adozione dei sistemi utili a impedire che gli stranieri entrino ed escano liberamente dall'ex caserma. Fontanini, dopo aver ascoltato le istanze del comitato, ha affermato che allerterà il responsabile della Croce Rossa affinché stimoli a sua volta gli ospiti della struttura a tenere in ordine le aree verdi. Se questa richiesta rimarrà inascoltata, Fontanini ha promesso che incaricherà il titolare dell'area, ovvero il demanio, di effettuare gli interventi. Fontanini, come conferma il referente del comitato Romeo Tugliozzi, farà un sopralluogo la Cavarzerani alle 18 del prossimo 20 giugno. Continua nel Goriziano la sostituzione dei condattori del gas di vecchia generazione con i nuovi misuratori digitali smart dotati dalla rete Lora One che permette di trasmettere informazioni online. Il progetto Smart Metaling Gas di Acegas, APS e AMGA è giunto all'ultima fase a Monfalcone, Ronchi dei Legionari e Staranzano dove è stato avviato lo scambio dei circa 5.000 pezzi mancanti. Storica visita del presidente del CONI nazionale Malagò che ha portato l'omaggio del mondo dello sport al Sacrario di Redi Puglia in occasione delle celebrazioni per il centenario della Grande Guerra. Qui in Fruli non eravamo mai venuti, sono molto felice di esserci. non c'è un motivo per cui siamo arrivati adesso anziché prima e con l'occasione cerco sempre di essere presente il più possibile dove ci sono delle realtà non solo sportive, sociali, impiantistiche, associazioni, realtà come questa del Sacrario dove onestamente questi valori, questi ricordi anche per la presenza di atleti e atleti che hanno perso la vita nel conflitto mondiale era doveroso che venissimo omaggiare. Questa mattina molto presto ho ricevuto un messaggio di Gian Paolo Pozzo al quale mi onora un'amicizia di lunga data. Per noi è un modello che stiamo cercando di esportare nelle altre regioni italiane. Mi spiego meglio. L'Udinese ha destinato un'intera ala dell'impianto, in particolare tutto il retro di una curva, a tutte le sedi dei comitati regionali del nostro mondo, dei nostri stakeholder, dei nostri azionisti. È uno stadio privato, è una persona che è la famiglia Pozzo che si è dimostrata molto sensibile, ci ha fatto questo atto di generosità. Io non posso che essere molto grato, riconoscente. Non solo il presidente del CONI nazionale, ma anche il presidente di tutti i comitati olimpici dell'Europa, l'amico Kociancic, che sono voluti essere qui proprio a testimoniare come cento anni fa ha finito una grande tragedia che ha coinvolto tanti sportivi, come sapete, ed è stato anche qui accennato. Attraverso lo sport, invece, noi cerchiamo di dare ai nostri ragazzi messaggi molto positivi, di amicizia, di correttezza, di rispetto reciproco e vorremmo consegnare a loro, ecco perché abbiamo avuto tanti ragazzi oggi qui, la responsabilità di mantenere la pace che 70 anni fa abbiamo finalmente conquistato. Gli studenti dell'Università di Udine raggiungono buoni voti, hanno alte probabilità di trovare lavoro subito dopo la laurea. A constatarlo è il consorzio interuniversitario Alma Laurea che ha presentato il ventesimo rapporto sul profilo e sulla condizione occupazionale. È stato preso in esame quasi un milione di studenti provenienti da 74 università, di cui 7.760 dell'Ateneo di Udine. In media, gli studenti dell'Università Udinese si laureano a 25,7 anni e ottengono un punteggio di 101,2 su 110. Il tasso di occupazione per coloro che hanno conseguito la laurea triennale e hanno deciso di mettersi subito nel mondo del lavoro è del 77,5% e la retribuzione media è di 1.182 euro al mese tra gli occupati, il 23,6 ha un contratto a tempo indeterminato mentre il 43,9 a tempo determinato. Le prospettive cambiano leggermente per chi ha ottenuto da un anno la laurea magistrale. Il tasso di occupazione raggiunge il 78,9% e la paga mensile media è di 1.185 euro. Il 29% degli occupati ha un contratto a tempo indeterminato, il 49 a tempo determinato. Ai gemonesi, la riforma della sanità voluta dalla precedente giunta regionale che ha determinato il declassamento del locale nosocomio non è andata giù. Il comitato difesa dell'ospedale di Gemona non molla e chiede un incontro con il Presidente della Regione. Massimiliano Federiga. Gemona ha pagato politicamente le scelte della Regione sia delle passate amministrazioni e in particolare dell'ultima amministrazione regionale che ha portato al nostro ospedale che lo ricordiamo è l'unico ospedale antisismico della Regione per trasformarlo in un poliambulatorio. Noi come comitati che difendiamo l'ospedale di Gemona siamo praticamente in Trimcea. Già dal 1995 quando la Fasola cominciò a dare la prima mazzata al nostro nosocomio togliendoci la ginecologia l'ostetricia e il punto nascita. Oggi come oggi abbiamo iniziato un'azione di convincimento nei confronti dell'attuale maggioranza consigliare e anche del Movimento 5 Stelle facendo presente tramite un preciso programma di rilancio dell'ospedale quelle che sono le necessità di questo territorio rispetto alla sanità. Quindi non una politica di campanile ma una risposta alle nostre legittime esigenze. Adesso aspettiamo di essere ricevuti a livello regionale anche con il supporto dell'amministrazione comunale per cominciare a fare un discorso di rilancio della struttura naturalmente sempre e comunque in base a quelli che sono i bisogni e le necessità di questo territorio. La scuola Moseicisti del Friuli è un orgoglio per Spilimbergo oltre ad essere un patrimonio a livello europeo e internazionale. Ha detto l'assessore all'attività produttiva al commercio Anna Bidoli durante la cerimonia di consegna degli attestati di qualifica professionale per gli studenti del terzo anno. Un istituto dove si fondono alta formazione specializzazione cultura e lavoro ha ribadito Bidoli. Due allievi del terzo corso inoltre hanno vinto il premio Pietro Ronzat che prende il nome dell'imprenditore friulano che ha istituito l'iniziativa. Deborah Franco e Francesca Caffarelli hanno infatti prodotto le migliori opere musive realizzate con messaggio finale riconosciute meritevoli dal punto di vista tecnico, ideativo ed estetico. Sono entrati nel vivo i Colio Games che fino al 17 di giugno fanno muovere Cormons all'insegna dello sport. Una settimana dedicata allo sport locale e non con tutte le società sportive di Cormons che metteranno in campo le loro energie e la loro organizzazione quindi basket pallavolo calcio tennis tiro con l'arco rugby femminile maschile quindi un put puri di cose meravigliose e tutti i cormonesi sono invitati e anche non i cormonesi in questa città. L'obiettivo è quello di innanzitutto promuovere lo sport del territorio ma proprio riallacciandomi al concetto di territorio quello di far sì che la gente venga a Cormons passi una bella giornata in compagnia con i propri figli con gli amici gustandosi del buon vino vedendo un bellissimo territorio e guardando lo sport che non guasta mai. Beh, se guardate è una cornice meravigliosa perché fa da controaltare a un campo multicolore edificio del 700 e del 800 palazzo Locatelli dietro di noi credo che sia una cornice ideale scelta dagli organizzatori di Smile Events a cui vanno i miei più sentiti ringraziamenti. E dopo questa bella iniziativa a Cormons è arrivato il tradizionale momento con la vignetta di Fernando Venturini. E' stato inaugurato a Pasian di Prato il primo campo di padel del Friuli uno sport che appartiene alla famiglia del tennis e che sta spopolando in tutta Italia. A tenere a battesimo il campo è intervenuto il presidente nazionale della FIT Angelo Binaghi che dopo il Roland Garot ha parlato anche del momento d'oro del tennis italiano. A collaudare il nuovo campo di padel di Pasian di Prato il primo della provincia di Udine realizzato con le nuove tecnologie è stato il presidente nazionale della federazione italiana tennis Angelo Binaghi lungo 20 metri per 10 il campo è a prova di vento perché circondato da vetrate ed è illuminato per le partite notturne 6 giunge ai 500 del resto d'Italia una grande soddisfazione per Marco Santarelli presidente del tennis club Garden di Pasian di Prato. Il padel è lo sport con il maggiore tasso di crescita in Italia e in Friuli Venezia Giulia ha annunciato il presidente del comitato FIT regionale Antonio De Benedettis c'è la volontà di promuoverlo ulteriormente attraverso tornei di alto livello vedrete nei prossimi mesi che cosa succederà in questo campo e che cosa succederà anche in tutti gli altri circoli della regione che incominceranno a costruire i campi di questa nuova disciplina il padel è uno sport molto divertente si impara molto più facilmente del tennis necessita di uno spazio nettamente inferiore e quindi è anche uno sport profittevole per chi vuole investire sarà un grande successo soprattutto attenua le differenze quindi anche dei buoni giocatori di tennis riescono a divertirsi dentro un campo da padel con persone con le quali dentro un campo da tennis non riuscirebbero a divertirsi nel loro o negli altri i tesserati sono circa 10.000 quindi dopo il tennis è lo sport di racchette oramai quasi più diffuso che c'è in Italia nel senso che stanno per superare il tennis tavolo è uno sport che è romacentrico finora perché è veramente esploso a Roma da un paio d'anni e sta diventando veramente uno sport a diffusione nazionale Binaghi si è poi soffermato sul momento d'oro del tennis italiano che ha brillato anche al Roland Garros ha vinto Nadal ma credo di poter dire che questo è stato il Roland Garros di Marco Cecchinatto ed è stato anche il Roland Garros degli italiani abbiamo un numero di giovani importante che incominciano a competere ad alto livello Udinese e Verona hanno annunciato di aver trovato l'accordo per il rinnovo del prestito di Matos dalla società friulana a quella scaligera con la formula del diritto di opzione da parte dell'Ellas l'attaccante brasiliano era stato ceduto al Verona a titolo temporaneo durante la sessione invernale esattamente due anni dopo il suo arrivo in Friuli con la maglia giallo-blu ha totalizzato 14 presenze e nessun gol appuntamento alle 21 con una nuova puntata di Bianconero la trasmissione di approfondimento dedicata all'Udinese tra movimenti in entrata e uscita il direttore di Tutto Sport Xavier Jacobelli commenterà l'arrivo di Velasquez e quello atteso di Pradet focus anche sull'evento Football Legends con interviste a tanti volti noti del calcio bianconero e nazionale e in vista della nuova stagione la GSA lancia un nuovo logo societario in concomitanza con il secondo compleanno della promozione di Montecatini era l'11 gennaio 2016 quando l'Apu conquistò sul campo la Serie A2 battendo Forlì e la seconda novità dopo l'annuncio del coach Demis Cavina che torna sulla panchina friulana dopo l'esperienza con la maglia della Snyder nel 2009 2010 bene con questa notizia di basket termina qui il nostro telegiornale regionale grazie come sempre per la vostra cortesa e fedele attenzione adesso il nostro Gian Domenico Ricci può mandare la sigla di chiusura buona serata la sigla di chiusura la sigla di chiusura la sigla di chiusura di chiusura di chiusura Grazie a tutti.